Tradizionale cerimonia municipio in occasione della festa del lavoro. Il sindaco, l'assessore al personale, il segretario generale e i divertici del circolo dipendenti hanno presenziato la cerimonia di consegna di riconoscimenti attribuiti ad alcuni dipendenti che hanno raggiunto significativi traguardi lavorativi. A Silvia Cigana è stato consegnato l'attestato di nuova socia del circolo, mentre i distintivi a testimonianza dei 25 anni di servizio in comune sono stati attribuiti a Monica Bertella, Michelina Guarnieri, Graziella Lorenzon, Lorella Marcolin e Vanni Tissino. Ad Emiliana Moro è stata assegnata la medaglia d'argento poiché ha cessato il rapporto di lavoro dopo 25 anni di servizio, mentre la medaglia d'oro per il personale in quiescenza con 30 anni ed oltre di lavoro è stata conferita a Ennis Frison, Renato Dalcin e Carmela Medici. Soddisfazione dell'evento nelle parole del sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Questa cerimonia che c'è ogni anno non è semplicemente una questione di affetto, diciamo, o di riconoscimento del lavoro fatto, ma di rispetto anche, perché molte di queste persone sono diventate all'interno della nostra comunità dei veri e propri riferimenti, facendo anche lavori umili, però dando continuamente questa sensazione di essere vicini a chi veniva all'interno del comune e quindi secondo me è una festa anche della città la vicinanza a queste persone.